Buonasera e grazie per essere di nuovo con noi a Fattore Bergamo dedicato alla salute. Questa sera parliamo di prevenzione, lo facciamo in un modo simpatico perché abbiamo ospiti Giorgio Ferrari che è il direttore di Humanitas Gavazzini e il cerebro e cartoni del bergamasco Bruno Bozzetto, il papà del signor Rossi. Buonasera dottor Ferrari, buonasera. Parliamo di prevenzione perché Humanitas Gavazzini ha organizzato un programma, un progetto appunto di prevenzione servendosi dei cartoon di Bruno Bozzetto. Come è nata questa iniziativa? La cosa è nata un po' casualmente perché Bruno Bozzetto è venuto a farsi curare da noi e gentilmente ci ha mandato anche una email di ringraziamento e da quel momento è nato un incontro e si è realizzata un'idea che avevamo da un po' di tempo e cioè quello di trovare un linguaggio nuovo per parlare di prevenzione rivolto soprattutto ai giovani perché molto spesso si parla di prevenzione sulle patologie maggiori e mentre solamente la riflessione di avere 5.000 studenti attorno a noi ci ha posto il tema di come parlare di prevenzione, come parlare di salute, è come parlare di stili di vita ai giovani con il linguaggio dei giovani. È una scelta insolita per un ospedale dove l'età media generalmente è ben più dei 15-18 anni. È assolutamente vero, ci sono due temi sull'ospedale. Uno che l'ospedale comunque deve pensare al futuro e quindi ragionare non solamente in termini di cura ma in termini di essere vicini alla popolazione e anche chi dà un futuro rispetto alle cure degli anziani e sono sostanzialmente i giovani. La seconda cosa è che molte segnalazioni del nostro punto soccorso che poi abbiamo un po' coinvolto in questo sperimento, diciamo così, è che i giovani cominciano a presentare alcuni comportamenti che possono veramente portare a breve e a medio nella loro vita alcuni rischi di salute. E quindi la riflessione è stata possiamo trovare un modo sulle loro corde che possa attivare un pensiero, una riflessione su come si comportano, le implicazioni che hanno usando il loro linguaggio. Da qui è nata questa idea carina secondo noi con Bruno Bozzetto. Che bozzetto ha raccolto subito? Al volo. Cioè non amo fare film con i maialini, gli scogliattoli mi piace fare qualcosa di utile. In questo caso è stata una, secondo me, una bella idea da parte loro, originale e soprattutto utilizzare il disegno animato credo che sia il sistema più veloce, più divertente per raggiungere il pubblico. Cioè il disegno animato è molto seguito dai giovani e ha un appeal forte. Quindi credo che sia la scelta giusta. Per un attimo ne vedremo un paio. Come è stato organizzato il lavoro? Il lavoro è stato organizzato coinvolgendo più persone, è stato proprio un lavoro di equipa anche divertente, devo essere sincero, perché diverse competenze, diverse curiosità, diversi linguaggi sono stati messi attorno al tavolo. Quindi abbiamo utilizzato il medico di pronto soccorso, abbiamo utilizzato l'expertise, la competenza appunto dei cartoni animati di Bruno Bozzetto e dei suoi collaboratori giovani e brillanti. Abbiamo utilizzato qualche competenza giornalistica di un nostro amico e abbiamo cercato di mettere insieme qualcosa che potesse essere intrigante. Ecco, questo intrigante per noi e quindi intrigante per i giovani. Andando sui contenuti oltre che sulla parte di estetica, oltre che sulla parte del linguaggio che è stata curata da Bruno Bozzetto insieme alle immagini, ma cercando di raggiungere in modo molto semplice e diretto dei contenuti, dei comportamenti. Uno dei più riusciti è quello sul lavaggio delle mani, direi di guardarlo insieme e poi magari lo commentiamo con Bozzetto. Lavati spesso le mani, è una buona abitudine che protegge la tua salute e quella degli altri. Però la vita è tua, quindi fanni quello che ti pare. Lo sai? Non giocare con la vita. La prima cosa che colpisce è la freschezza dell'immagine, un linguaggio assolutamente nuovo per chi è abituato a vedere un certo tipo di Bruno Bozzetto. Ma è stata una scelta, nel senso che dovevano rivolgersi a dei giovani e quindi abbiamo scelto anche dei collaboratori che fossero vicini a questo mondo. I disegni di Diego Zucchi e di Fabio Bozzetto che vivono nel mondo giovane, sono esperti di internet, di festival, di mostre. Quindi sanno quali sono le tendenze dei giovani e possono avvicinarsi. Poi abbiamo avuto la collaborazione importantissima di Valentina Mazzola per la sceneggiatura, che è quella che dà l'impostazione del lavoro iniziale e da lì nasce poi tutto. Però non dimentichiamo che noi siamo il braccio, cioè la mente sono loro. È stato l'ottor Ferrari, l'ottor Galbusera che ci danno l'input, ci danno la valutazione del problema e insieme a loro lo approfondiamo. Quindi si lavora sempre passandoci la palla, cioè è un rimpallo tra noi di idee e di suggerimenti che vengono scartati o accettati. Ma comunque il lavoro è the keep ed è fondamentale perché il nostro è un lavoro fatto con un bel gruppo di persone. Dottor Ferraro, non c'è neanche una costruzione, non c'è un messaggio vessatorio per così dire nei confronti dei giovani. C'è un burattino che dice scegli tu, questo è quello che può succedere. Sì, la scelta è stata molto intelligente perché si sottolinea indubbiamente il comportamento ma anche la grande libertà che ha il giovane e comunque qualsiasi essere umano nel poter scegliere cosa fare un po' della propria vita in alcune situazioni. Quindi questa è la grande libertà, quella del sensibilizzarsi, dell'incuriosirsi e di poter scegliere. Questo credo sia stato anche uno degli elementi di comunicazione più giovani da questo punto di vista perché non c'è niente di peggio di dire lo vedo con mia figlia di 13 anni, fai una cosa, tendenzialmente fa l'opposto. Lo stesso sugli stili di vita, quindi di permettere al giovane di riflettere e di trovare la sua risposta credo che sia uno dei momenti di comunicazione più significativi. Lo scopo è anche quello di riuscire a sorridere perché l'immagine del ragazzo che esce dal bagno e si guarda se è pettinato se i denti sono puliti non si lava le mani e questa è la finalità. Sì, questo è molto giusto mi sembra e il mantenere l'ironia, l'umorismo e una leggerezza di tutto è importante. E poi questo discorso aperto, quindi non chiuderlo, fai così. Questo secondo me è il punto di forza di questi film, cioè si lascia aperto il discorso, questa è la situazione, decidi quello che vuoi. Un'iniziativa che Humanità Sgavazzini ha voluto poi condividere anche con altri soggetti istituzionali. Sì, abbiamo pensato che potesse essere una buona occasione per condividerla sul territorio, quindi con istituzioni importanti come l'ASLA che è stata ben felice di non solo patrocinare ma di accompagnarci in questa iniziativa e con l'ufficio scolastico provinciale con cui abbiamo anche disegnato con entrambi un concorso che verrà lanciato nel nuovo anno scolastico, quindi nel prossimo anno scolastico, che darà un seguito sulle scuole medie superiori a questa iniziativa chiedendo ai giovani di dare un contributo, di parlare con dei contenuti loro e con delle modalità loro e dando proprio come se questi piccoli sketch avessero poi una loro continuità sulla base della loro creatività e del loro contributo. Questo verrà lanciato più avanti. Per Bossetto non è stata una nuova esperienza perché lei di medicina, di salute e di scienza si è occupato e si occupa ormai da tanti anni. Sì, ho iniziato con Piero Angela molti anni fa e devo dire che abbiamo fatto un bel curriculum con lui. Abbiamo visto che funziona, abbiamo visto, ho incontrato molti giovani che mi hanno detto ho scelto questa carriera perché sono stato stimolato da un cartone animato, figuriamoci. Quindi c'è uno stimolo e stiamo lavorando ancora oggi con tanti altri. Si è divertito anche lei nel fare questo? Io mi diverto sempre a fare il mio lavoro, credo che il trucco del nostro lavoro sia riuscire a fare delle cose divertendoci noi per primi. Quando ci divertiamo noi piace anche agli altri, ho scoperto, quindi è un trucco, è una filosofia anche di vita, devo dire. Ne vediamo un altro, vediamo quello sugli stili di vita e sulla corretta alimentazione. Mangiare sano è il modo più semplice per prenderti cura della tua salute e della tua bellezza. Però la vita è tua, quindi fanni quello che ti pare. Lo sai, non giocare con la vita. In questo ad esempio c'era una specie che richiamava vagamente il Pac-Man, che mangiava... Volutamente lo richiamava perché anche questo è uno dei simboli, dei disegni riconosciuti dai giovani che molto colpiscono. Si tratta di trovare sempre dei riferimenti alla vita quotidiana per colpire anche. Credo che il disegno animato in questo possa avere una gran forza perché riesce con un solo disegno a richiamare un mondo. Quali canali avete pensato per trasmettere questi messaggi? Abbiamo utilizzato la stessa filosofia, quindi abbiamo pensato i canali che usano i giovani di adesso, quindi tutti i cosiddetti social network, quindi YouTube piuttosto che Facebook, piuttosto che Twitter. E tutti i siti che vogliono ospitarci, quindi utilizzando soprattutto la trasmissione via web. Questo è stato una continuità. Video sono anche disponibili sul sito web dell'Eco di Bergamo, basta mettere Humanitas Gavazzini o Guzzetto Gavazzini nel motore di ricerca e compaiono subito i video che sono stati realizzati. La scelta dei temi e su cosa è caduta? I temi che sono stati scelti dopo un po' di confronto, come abbiamo visto, sono stati il mangiare sano e lavarsi le mani, a cui abbiamo aggiunto un tema delle dipendenze, le dipendenze più comuni come si può vedere poi dai filmati. Il fumo, droga, alcol. Esattamente, e la gestione dell'ansia e dello stress, che è un tema che i giovani stanno affrontando sempre di più, non solo i giovani sinceramente, anche perché le sollecitazioni informatiche di comunicazione sollecitano a volte dei comportamenti particolari. Stiamo già anche andando avanti, stiamo ragionando sullo sport, diciamo sulle due caratteristiche dello sport, l'aspetto positivo, quindi il contributo che dà allo stato di benessere, ma anche il rischio dell'eccesso di sport. E quindi ci sarà, a mo' di ciliegina nei confronti di tutti quanti, una continuità in questa iniziativa. L'ultima domanda a Bruno Bozzetto, cosa ci sta preparando il papà del signor Rossi? In questo momento ho finito uno spot sulla meritocrazia, che dovrei mettere in rete tra poco. Abbastanza duro, abbastanza divertente, raccontato sotto forma di un rap. Quindi c'è una canzone di cui ho scritto le parole, ma è un gioco, lo faccio, una goliardata, l'ho definito io. E poi abbiamo tanti lavori come studio Bozzetto, quindi stiamo lavorando per gli talcementi, per la Dalmine, per la Wind, per il Campari, insomma, lavori che capitano, sui quali ogni volta dobbiamo raccogliere una sfida di raccontare qualcosa, e questo è il bello in pochissimi secondi, questa è la cosa che più mi stimola. Che è un'arte? Non lo so, è bella, è difficile e mi piace. Benissimo, lo spazio a nostra disposizione finisce qui, ringraziamo Bruno Bozzetto e Giorgio Ferragi per essere stati con noi, grazie a voi per averci seguito e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.